robert nozick anarchia stato e utopia il filosofo statunitense robert nozick nato nel 1938 è noto soprattutto per la sua opera intitolata anarchia stato e utopia la tesi che egli viene sviluppando è quella di una libertà pressoché illimitata dell'individuo il nucleo polemico dell'opera di nozick è da individuarsi soprattutto nella teoria della giustizia elaborata da john rolls che per nozick è un autore troppo socialisteggiante anche rolls in vero era ispirato al liberalismo ma nozick declina il liberalismo in senso distantissimo da ogni portata socialisteggiante in particolare la visione di nozick è apertamente direi anzi ostentatamente di ordine individualistico la vita è l'individuo la sfera dell'intervento dello stato deve essere ridotta al minimo ed è per questo che nozick espressamente parla di stato minimo uno stato che non interviene nella vita politica e che appunto tende a spostarsi sullo sfondo ecco perché nozick si allontana drasticamente dalla visione democratica di john rolls e si avvicina molto ai programmi delle destre neoliberiste ben rappresentate da friedrich von hayek a cui peraltro nozick apertamente si richiama e che sono peraltro critiche contro le politiche del welfare state dello stato sociale nozick si riallaccia naturalmente a john locke in parte anche a john stuart mill e sostiene su basi antropologiche e politiche la priorità assoluta dell'individuo sulla società gli individui di fatto sono tutto solo l'individuo esiste nulla vi è al di là dell'individuo la filosofia di nozick si basa su questo assunto quello per cui a esistere sono soltanto gli individui le vite personali i diritti delle persone ecco perché i diritti riguardano sempre l'individuo e non esistono diritti che vadano al di là dell'individuo in particolare il diritto fondamentale è quello di perseguire liberamente i propri piani di vita attraverso il diritto alla proprietà che se posseduto a giusto titolo non può subire alcun tipo di limitazione per quel che concerne il tema della giusta proprietà nozick che si riallaccia anche in questo alla teoria di john locke sviluppa argomenti a sostegno della proprietà privata in particolare spiega che il possesso della proprietà privata è giusto se risponde se risponde alle seguenti condizioni primo la giustizia nell'acquisizione cioè se la proprietà privata è stata acquisita in maniera giusta tramite l'acquisto da parte di qualcuno di cose non possedute da nessuno tramite la donazione secondo giustizia nei trasferimenti se cioè vi è un valido passaggio della proprietà da un individuo a un altro cioè su uno scambio volontario e non imposto violentemente o con la frode terzo ed è la conclusione la giustizia nel possesso della proprietà è storica dipende dunque dalla correttezza dei vari trasferimenti che la proprietà ha subito ecco allora che si pone una questione di rimente se i diritti degli individui sono talmente forti ed estesi quale spazio resta per lo stato e per le sue funzioni che cosa deve fare lo stato all'interno di una teoria in cui l'individuo è il fondamento di tutto e la proprietà è l'unico diritto fondamentale ebbene lo stato per nozick deve essere minimo non intrusivo deve svolgere il ruolo di guardiano notturno secondo la concezione classicamente liberale lo stato deve cioè garantire nell'ambito del proprio territorio il rispetto della legge deve punire chi violi la legge deve garantire la libera transazione dei rapporti economici fra gli individui lo stato diventa dunque uno stato minimo che deve proteggere contro la forza il furto la frode deve in questo modo garantire che i rapporti tra gli individui non degenerino in sopraffazione qualsiasi qualsiasi forma di stato più esteso invece violerà i diritti delle persone e sarà perciò stesso ingiustificato ecco perché dice che dice nozick è uno stato che pensasse di attuare welfare state politiche interventiste difesa dei ceti più deboli sarebbe di fatto uno stato ingiusto e di più totalitario ecco perché dice nozick bisogna pensare sempre all'individuo lo stato non rispetta e non considera sufficientemente il fatto che ogni persona è una persona separata e che la sua è l'unica vita che possiede ecco perché non bisogna mai andare al di là dell'individuo questa rigida visione individualistica viene peraltro da nozick estesa anche agli animali i quali non debbono essere considerati oggetti né mezzo per accrescere il piacere degli uomini sono anch'essi individui in un certo senso e meritano di essere considerati come tali con i loro diritti individuali ecco perché sotto questo riguardo per nozick bisogna ripensare l'idea stessa di utopia stato anarchia e utopia il terzo termine della relazione che dà il titolo all'opera di nozick a quale tipo di utopia egli fa riferimento dobbiamo abbandonare l'idea di utopia di una società perfetta alla maniera platonica il paradigma in cielo una sorta di utopia valida universalmente al contrario l'utopia deve essere pensata come un luogo in cui la gente sia libera di associarsi volontariamente per tentare tentare di attuare la propria individuale visione della vita senza imporla agli altri l'utopia deve essere dunque una struttura per la libertà che superi sia l'anarchia che poi coinciderebbe con lo status nature sia lo stato pianificatore che poi obbligherebbe qualcuno a fare sacrificio per altri no dunque all'anarchia dello stato di natura e allo statalismo autoritario sia l'utopia della libertà la libertà degli individui ecco perché il titolo di nozick chiama esattamente in causa l'anarchia lo stato e appunto l'utopia il titolo dell'opera di nozick più nota del 1974 e appunto anarchia stato e utopia